Qual è quella cosa che fino ad ora mi ha impedito di progredire? Perché nonostante questo però mi vedo sempre uguale? Perché mi sembra di non migliorare? Non ho mai avuto nessuno che mi dicesse sì così va bene ma non basta. Ho vissuto il prendere consapevolezza e toccare con mano il proprio limite non come una cosa negativa ma assolutamente come una cosa positiva come un'illuminazione mi verrebbe da dire. Sicuramente io lo consiglierei a tante ragazze giovani che vedo allenarsi in palestra. Io consiglierei un percorso di questo tipo perché comunque le porterebbe ad una crescita non solo fisica ma anche a livello mentale.